Mettici la faccia, oh Toti, mettici la faccia, mettici, mettici, mettici la faccia, oh Toti, mettici la faccia. È una cosa senza senso, se ne prende quei 5 euro a tattro già si facevano un sacco di soldi. Con quei soldi lì bisogna fare che cosa? Bisogna riappire i sentieri che sono chiusi per rimanutenzione, in modo da spostare il turismo su un fronte più ampio e non concentrato su pochi sentieri. In questo modo invece diciamo che bisogna andare in treno e penalizzi chi va in treno, una famiglia di 4 persone che fa una tratta sola avrà in treno, spero 80 euro e poi non va più a mangiare a ristorante. No, ma io non firmo, abbiamo fatto delle proposte, so che una parte di queste saranno accolte, vediamo, chiaramente la delibera c'è già stata e quindi poi il fatto che il parco delle 5 terre l'altro ieri ha votato l'accordo con l'RFI sull'aumento della carde ci ha depotenziato nella trattativa e questo penso che non sia corretto dal punto di vista istituzionale. Ma detto questo noi siamo per trovare le soluzioni migliori possibili. Poi il Presidente ha già dato disponibilità a monitorare quello che succederà e eventualmente a prendere modifiche. Però vediamo le novità.